Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. In questo video mi rivolgo a tutte quelle persone che stanno iniziando con YouTube o che vorrebbero iniziare con YouTube o che comunque sono ancora i propri primi mille follower e vogliono capire come arrivare a centinaia di migliaia di iscritti. Prima di tutto mi presento, mi chiamo Dario Vignali, sono un imprenditore digitale, sono il fondatore di Marketers che è una holding company che aiuta imprenditori celebrity e creativi di tutta Italia a crescere sul web sia in termini di visibilità che di fatturato. In questo video voglio raccontarti un po' di quella che è stata la mia esperienza sul campo, è da ormai più di tre anni che faccio video su YouTube, all'inizio l'ho preso per gioco, per divertimento, facevo vlogging, a un certo punto ho iniziato a metterci un po' più di serietà, nel 2019 ho iniziato ad approcciarlo un po' più professionalmente, nel 2020 mi ci sono messo, quindi dovrei riuscire ad ottenere i risultati che ho avuto in tre anni, perché ci ho messo tre anni arrivare a 50.000 nei prossimi dieci mesi e attenzione, negli ultimi anni YouTube di lezioni me ne ha date tante e anche qualche pugno sui denti. Prima di tutto facciamo una precisazione, ragazzi la verità è che si cresce con una velocità proporzionale a quella che è la dimensione del proprio mercato, se io oggi mi metto a fare intrattenimento e riesco a far ridere le persone intrattenere, raccontare storie accattivanti, è anche facile magari fare 100.000 iscritti, 200.000 iscritti nel giro di qualche mese o di qualche anno, se invece scegliamo una nicchia professionale come quella del digital marketing, che addirittura è molto più piccola rispetto a quella della finanza o quella della imprenditoria digitale, dove c'è una minima parte della popolazione che desidera fare l'imprenditore, beh, diventa molto più difficile crescere. Ma non ci deve interessare quanto cresciamo, non è il famoso numero i 100.000 e i 50.000 che ci deve dare una sorta di soddisfazione professionale, ma devono essere le modalità con cui rendiamo redditizio il nostro operato su YouTube, che non per forza deve essere economico. Certo può essere economico, arriva a guadagnare con collaborazione, pubblicità e altro, ma può essere anche il tipo di influenza che raggiungiamo sul mercato. Perché là fuori, anche solo se raggiungi 20.000 iscritti nella nicchia del digital marketing, nel mercato della botanica o quello che preferite, può essere che si sviluppi una grande influenza sul mercato e quindi diventiamo più autorevoli, il nostro brand o personal brand ne trae beneficio, possiamo aumentare i nostri prezzi, possiamo posizionarci come professionisti sul mercato a cui apparteniamo. Ora vorrei invece passare alle 5 strategie che ho preparato per te oggi e che reputo indispensabili per qualunque persona che desidera oggigiorno buttarsi su YouTube. La prima strategia, te lo dicono tutti, te lo dico anch'io, all'inizio non lo si capisce, ma in realtà una delle cose più importanti sono le headlines, quindi titoli e le thumbnail, ossia le immagini anteprima. E questa cosa è super rilevante perché l'intero algoritmo di YouTube funziona in questo modo. Mostra il tuo video a una percentuale di persone, solitamente ovviamente per lo più a chi già ti segue, ma anche una percentuale di persone che non ti seguono e che potrebbero essere interessati all'argomento e poi analizza in che modo queste persone rispondono al video. La prima cosa, la più importante in assoluto, è le persone cliccano su questo video, cioè io YouTube faccio vedere a mille persone il video che tu hai appena realizzato, ma le persone poi su questo video ci cliccano o meno, se non ci cliccano YouTube smette di consigliare il video e il video non ottiene visualizzazioni. Il primo modo per poter rendere quanto più accattivante il nostro video e far sì che le persone ci clicchino è potenziare le nostre capacità creative e di copywriting. Il copywriting, come ho spiegato in altri video di questo canale, ho anche fatto un corso che si chiama Copy Mastery e che ti linko qui sotto, è l'arte del saper scrivere in maniera persuasiva per catturare l'attenzione altrui. Ecco, è molto importante su YouTube saper scrivere delle headline, dei titoli che ottengano il click delle persone, che ottengano l'attenzione. E ancor più importante è l'anteprima, perché notiamo prima l'immagine del titolo, riuscire a fare copertine o bellissime o estremamente accattivanti, quindi anche brutte, è molto importante, perché in questo modo otteniamo l'attenzione delle persone e lo step subito successivo ad aver ottenuto l'attenzione è far sì che leggano la nostra headline, il nostro titolo e questo deve essere quanto più accattivante possibile. Qui sotto ti metto in descrizione dei video che ho pubblicato sull'argomento del copywriting, in modo che tu possa migliorare le tue competenze in questo ambito. Seconda strategia molto importante che l'ho spiegata all'interno del mio video Content Booster, in cui spiego come costruire contenuti persuasivi, è maledettamente importante all'inizio di ogni video fare la cosiddetta brand e content elevation. Che cosa sono? Content elevation è ti racconto i benefici che otterrai in questo video. Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. In questo video ti parlerò come poter crescere da YouTube partendo da zero. Questo è content elevation. subito ti do una chiara idea di quello che otterrai se guarderai questo video dall'inizio alla fine. Poi c'è la brand elevation. Il mio nome è Dario Vignali, sono un imprenditore digitale e sono anche il fondatore di alcune realtà digitali nel nostro paese. Ecco già questo mi posiziona come esperto. Potrei anche dire che sono stato nominato da Forbes come uno degli under 30 più influenti del nostro paese. Potrei continuare, però è anche giusto mediare per non essere troppo autoreferenziali. Però è importante dire queste cose perché oggigiorno la gente non ha tempo. La gente oggigiorno deve avere la possibilità di capire in pochi secondi se quel contenuto è meritevole della propria attenzione. Non si può pretendere che le persone guardino un contenuto noioso, che non sia chiaro esattamente che cosa spiega e soprattutto se non hanno neanche una chiara idea di chi siamo e cosa facciamo. Dobbiamo quindi raccontarci, mostrare le nostre credenziali, mostrare la nostra autorevolezza sul mercato e poi passare al contenuto. Altra cosa che è importantissima fare e che per pigrizia ho iniziato anni a iniziare a farla è iniziare a suggerire all'interno del proprio video altri video. Ciò che è importante per YouTube ma anche per l'intera umanità è il watch time. Per YouTube, perché YouTube tende a consigliare video che portano un grande watch time, ossia che le persone guardano a lungo e canali dove le persone passano molto tempo e poi guardano più video. In più anche a livello umano è molto interessante e importante perché è stato dimostrato che le persone arrivano a far click sul tasto iscriviti nel momento in cui guardano magari non un nostro video ma due o tre. Quindi se io riesco in ogni video a consigliare altri miei video e far sì che le persone dopo il mio video vanno a vedere un altro mio video, aumenta la probabilità che le persone entrino in un loop contenutistico dove provano una sorta di soddisfazione nel guardare i miei contenuti e alla fine dopo il secondo, terzo quarto video, arrivano a dire perfetto voglio iscrivermi al canale di questa persona che solitamente questa azione dell'iscrizione non avviene già la prima volta che ci incontrano che guardano un nostro video. Quarta strategia ragazzi è importante, è importantissimo imparare a fare ricerche di mercato e quando parlo di ricerche di mercato intendo anche la keyword research, quindi iniziare a capire quelle che sono le parole più ricercate all'interno del nostro mercato, quindi gli argomenti, le domande che le persone più spesso ricercano sul motore di ricerca di YouTube. YouTube è il secondo motore di ricerca al mondo, se riusciamo a costruire contenuti che corrispondono a keyword, che vengono ricercate mese dopo mese andiamo a costruire dei contenuti evergreen, contenuti che continuano a vivere nel tempo, che ogni mese macinano visualizzazioni e anche iscritti e questo è molto importante, importantissimo. Dobbiamo quindi imparare a fare market research, che significa utilizzare dei tool, come ad esempio keywordtool.io, ce ne sono tanti altri e questi software ci permettono di capire quelli che sono gli interessi di un mercato. Senza per forza utilizzare tool costosi, che magari riguardano propriamente YouTube, possiamo anche fare una ricerca di mercato estesa. Ho già consigliato all'interno di questo canale dei software, ti metto sotto il link al video sulla ricerca di mercato, con cui possiamo andare analizzare gli interessi delle persone e questi dati vengono presi da tante piattaforme, da tanti motori di ricerca e sono aggregati e ci danno una chiara indicazione di quelli che sono gli argomenti, i contenuti, gli interessi, i desideri, le ambizioni, gli obiettivi, i problemi, le necessità più importanti per il nostro target, per il nostro potenziale pubblico. E quindi una volta che si è fatta la market research è più facile riuscire a ideare dei contenuti che siano quanto più propensi a diventare popolari e ad ottenere tante visualizzazioni e quindi anche a farci crescere più velocemente. L'altro vecchio trucco è andare sui canali YouTube più importanti, quindi del nostro settore, ovviamente qui nel nostro mercato, andrò nei canali YouTube dei miei competitor, andrò a vedere i loro video, li ordinerò per popolarità, andrò a vedere i più popolari, ma degli ultimi anni. Attenzione, non crediate che siccome quel video che è di quello YouTube era fatto un milione di view, voi lo andate a rifare, farete un milione di view o comunque molte più view del solito, perché dipende anche poi dai trend del momento. Il mio consiglio è non andate a pescare i video più visti, può essere un'ottima strategia anche quella, ma ancor più intelligente andate a vedere i video più visti, più recenti, perché quelli sono argomenti che sulla piattaforma sono in trending, che catturano l'attenzione in questo periodo storico e sono molto molto potenti. Quindi anche andare a replicare, migliorare, trarre ispirazione, non copiare, ma trarre ispirazione e rifare un contenuto di un altro YouTuber, ma fatto ancora meglio, è un'ottima strategia di crescita e si chiama SQL technique. Quinta e ultima strategia, anche qua io sono stato il peggiore dei peggiori, ma purtroppo ho una vita professionale e imprenditoriale piuttosto impegnata, non sono mai riuscito ad essere veramente costante con YouTube. Ho sempre, diciamo, seguito il cuore, l'istinto e anche quelle che erano le mie disponibilità di tempo per fare video su YouTube. Quindi avevo periodi in cui caricavo tutti i giorni, periodi in cui non caricavo più per mesi. Invece è importante essere costanti. Io non sarò come quelli perfettini che ti dicono devi caricare ogni martedì, ogni vento. No, però sceglietevi una costanza, meglio un video a settimana, tutte le settimane per un anno, che due video a settimana per tre mesi, poi buco di tre mesi e poi di nuovo si inizia a caricare. Perché? Perché è importante il ritmo, la costanza e la visione a lungo periodo. Le persone si devono appassionare a noi e soprattutto i nostri video, la nostra persona, la nostra capacità di fare video che poi desiderino vedere, deve diventare per loro un'abitudine. Deve diventare un'abitudine vedere i nostri video, abituarsi ogni settimana a guardarci. Se noi facciamo un buco contenutistico di una, due, tre, quattro, cinque settimane, le persone smettono di guardare i nostri video, interrompono quell'abitudine e poi è molto difficile andare a ripescare l'attenzione di quelle persone che hanno smesso di seguirci. Non per forza ci hanno tolto l'iscrizione al canale, magari hanno perso l'abitudine a guardarci e guardano altri youtuber. Invece è importante rimanere costanti, avere un ritmo, riuscire a prendere un'onda di persone che iniziano a guardare il nostro video, ci scoprono, trovano interessante il nostro primo video, poi guardano il secondo. E noi dobbiamo continuare a mantenere la loro attenzione, continuare a fare nuovi video che possono interessare quel pubblico che abbiamo acquisito. Quindi anche dialogare, fare ricerche, capire quelli che sono i loro interessi, guardare quelli che sono i video che hanno maggior successo, comprendere gli argomenti che generano una maggiore attenzione, è molto importante per poter costruire un canale YouTube che esploda. E con questo chiuso, ragazzi, ho fatto tanti altri video su YouTube e su argomenti come questo. Nel mio canale trovate centinaia di video sul digital marketing, sull'imprenditoria digitale, vi consiglio di dargli un'occhiata. Se il video ti è piaciuto e se sei rimasto fin qua, magari lascia un like. Io ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!